AD Italia è un sito web di design e architettura che offre una vasta gamma di contenuti per i passionali del settore. Il punto di forza di questo sito è sicuramente la sua vasta e accurata selezione di articoli che spaziano dal design interni all'architettura al design degli oggetti e i visitatori possono trovare ispirazione, consigli e soluzioni innovative per rendere i propri spazi unici e affascinanti. Ulteriori considerazioni nell'info box di questo video.